Grazie per il saloneo, tre mesi, molto lungo, quindi un impegno che l'ha mantenuto, la maggior parte delle squadre comunque l'ha mantenuto e io spero che sia venuto tutti quanti, se ne abbia aspettato, perché dopo il gioco non è vero, certamente la vittoria della Colt, invece pochi avrebbero puntato sulla scuola di Valle Castiglione. Come vedete, le 15 premi noi abbiamo cercato di essere il più preciso possibile, perché comunque mantenere 11 squadre, aggiornare, fare sintesi è un lavoro che sembra facile, ma in realtà non è, e per questo siamo alla terza edizione, questa è una quarta, io spero sia venuto tutti e qui ci stiamo a cominciare la nostra previazione, le 15 premi. Dobbiamo partire dalla sala subicata, secondo me. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Grazie. La seconda è la seconda, non ricordo, Sosso dove sta. La seconda è la seconda. La seconda è la seconda. Un tirone giudicato, un battuto fino alla finale. Aspettate, stanno ancora arrivando. E' giusto! Che fuori giunti! Mi è un plumello! Ti hai fatto un plumello! Mi è un plumello! Senti, senti. Ma Juker come ti avessi fatto presto il plumello? C'è la moglie. Ti ho lasciato un plumello. Ti ho lasciato, hai lasciato un plumello! Ok, l'ho lasciato! Questa è la troppa del circuito Il miglior portiere della scuola Il miglior portiere della scuola L'alvatore di oro L'alvatore di oro Dalla prossima Il miglior portiere della scuola L'alvatore di oro L'alvatore di oro L'alvatore di oro Ora un laterale L'abbiamo già appena Il guido testa Questa sera non è presente dal miglior difensore del torneo generale Carmine Pagano 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 Carmine Pagano